buongiorno ragazze buongiorno a tutti ea tutti nuovo video chiacchiere come state spero bene io così come so sto benino dai diciamo che non mi lamento si sta bene però avevo voluto un po dalla vita però che vogliamo fare niente allora niente non so qua per cercare di che cosa però voglio come si dice lavami la faccia con voi e lenti insieme a voi si lo so non ditemi che non lavate i denti anche voi in diretta perché non ti credo ora mi lavami i miei denti con questo bello spazzolino detto qua che non è il massimo ma non ve lo faccio andare bene lo stesso perché tanto quello cambierò questo spazzolino perché è stra usato e direi anche tanto e quindi adesso mi lavo i denti poi ovviamente andrò a lavarmi la faccia ho cambiato le luci qua in bagno perché erano insopportabili il rumore era pazzesco c'è ancora però questo qua l'ho fatta cambiare perché non funzionava più erano completamente a buio quindi potete immaginare voi non funzionava più erano veramente a buio quindi non funzionava più erano ma non funzionava più erano i denti ma non funzionava più erano le luci qua Alla prossima 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 Niente Alla prossima 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 Alla prossima